17.84 di Trenitalia, proveniente da Ligni e diretto a Firenze, Santa Maria Novella, delle ore 16.32, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cervia, Milano, Marittima, Lido di Classo, Lido di Sabio, Rappelina, Farenza, Brisighella, San Martino, Invertara, Marati, Bifolco, Crescino dell'Anone, Ronda, Borgo S. Lorenzo, Picchio, Dicomano, Conta e Allonda, Scopetti, Scopetti, Ruffina, Punta e Svieve, Siena, Farenza, Brisighella, San Martino, Invertara, Marati, Bifolco, Crescino dell'Anone, Ronda, Borgo S. Lorenzo, Picchio, Dicomano, Conta e Allonda, Scopetti, Ruffina, Punta e Svieve, Sieci, Grenze, Camponate. Grazie a tutti.